Quello che abbiamo sempre avuto con il Parlamento, con i governi, il Cigile, un'organizzazione sindacale, dialoga con tutti e in ragione delle proposte che fa, chiede anche delle risposte. In questo caso, avendo il nuovo Presidente della Camera affermato la volontà di dare spazio alle leggi proposte dai cittadini, noi abbiamo presentato una proposta di legge della Carta dei Diritti Universali del Lavoro con milioni di firme raccolte, e andremo a sollecitare il fatto che si avvii questa discussione e che la Camera discuta di questa ipotesi di legge.